Colpiti da un mandato d'arresto europeo spiccato dalla Spagna, il presidente catalano destituito, Karl Spujdemont, e i suoi quattro ex ministri sono alla fine usciti liberi dall'ufficio di un giudice belga al termine di una lunga giornata di audizioni. Conformemente alle richieste della procura di Bruxelles, i cinque catalani rifugiati in Belgio da una settimana dopo essere stati sentiti dai giudici sono stati rilasciati in regime di libertà condizionata domenica sera nell'attesa che siano esaminati i mandati di arresto emessi a loro carico dalla Spagna. Pujdemont e i suoi ex consiglieri sono stati interdetti da lasciare il territorio belga, dovranno fornire un indirizzo fisso e dovranno personalmente presentarsi a ogni convocazione della magistratura e della polizia, ha precisato la procura di Bruxelles. La questione resta complessa e non di breve soluzione per un'eventuale consegna di Pujdemont e compagna alla Spagna. Bisognerà infatti attendere probabilmente altri 45 giorni. Intanto si apre la partita delle elezioni anticipate catalane fissate dal premier Rajoy in nome della pacificazione il 21 dicembre. Saranno un test cruciale con moltissime incognite.